Quest'anno, ancora più degli scorsi anni, lo stand è rivolto verso l'accoglienza del cliente e verso la parte tecnica che è fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell'azienda. Abbiamo sviluppato molti nuovi prodotti e sistemi basati sulla facilitazione della posa e ovviamente sull'innovazione dei prodotti. Tengo a precisare che l'azienda cresce anche quest'anno a doppia cifra nei core business profili, ma anche nell'area sistemi che stanno destando molto interesse in questo Cersaie. Abbiamo simulato delle ambientazioni molto realistiche che aiutano la comprensione di questi nostri nuovi sistemi anche al profano. In questa edizione presentiamo un nuovo sistema Pro Shower System, un prodotto direi completo a 360 gradi con un pannello in polistirene stampato, con una membrana impermeabile superiore che permette appunto un'impermezzazione totale del piatto doccia che può essere poi successivamente rivestita con qualsiasi tipologia di ceramica e attorno al quale abbiamo realizzato dei profili in acciaio inox che permettono di chiudere il piatto doccia in modo elegante e a regola d'arte. L'azienda sta investendo molto nello sviluppo dei materiali. Prodotti già esistenti come il ProTerras, che hanno una funzione ben specifica nel deflusso dell'acqua, sono stati migliorati con studi idrodinamici e ci hanno permesso di brevettare queste evoluzioni. Il nostro ProDrain Drip, abbiamo rivoluzionato il profilo creando un design innovativo che permette di drenare e defluire meglio l'acqua e evitando segni antiestetici nel muro. Un sistema completo, direi non esistente nel mercato, nel modo e nel metodo, che contiamo molto che venga apprezzato dalla clientela. Un'altra novità proposta in FIERAM, uno per l'uso esterno è il nostro ProGoBoard Panel e uno per l'uso interno è il nostro ProFoil Panel. Il ProGoBoard Panel ha un vantaggio che oltre ad essere molto resistente, è fatto in un materiale innovativo che si chiama Poliso Cianurato, quindi un prodotto leggero, flessibile ed estremamente resistente, consigliato per ambienti critici e il suo valore aggiunto è che è un prodotto totalmente inifluo. È il nostro ProFoil Panel, un pannello in polistirene espanso, completo di una membrana impermeabilizzante, un prodotto versatile e flessibile per l'uso interno. Anche dal punto di vista estetico, l'azienda propone in FIERA una nuova gamma di finiture denominata STONE, che ricrea un effetto materico che ben si accosta alle ceramiche più trendy del momento. Per quanto riguarda il marketing e la presentazione dei nostri prodotti, abbiamo investito su un nuovo espositore, un nuovo display per showroom e punti vendita. Ha una modularità che permette di applicare anche i monitor per gli esempi di posa e anche delle piccole ambientazioni su come i profili vengono posati e com'è la propria finitura e l'applicazione finale. Cita metta ProFoil ProFoil Pro il prossimo Pro Peg Jeff Profil Questa metta la nuova amicazioneahahaha abbiamo concetto una varia di pannello pr �tto di carceler, delle bacche a d妹ti prяют a carceler con la pennella integrarla e dei profili di servizu internazion alla planifica di Apostole strunt alimentazione, da sintetica e dell'attacco chimica. Bien évidemment, on integre il nostro sistema di membrana con l'échauffaggio integrato per fare in sorte che ci sia un'échauffaggio d'appoint che possa rendere più agréable l'experienza della salle di bain. A novembre 2015, abbiamo aperto l'Officiale Progress Profiles d'Australia. Il branchio è in place in Melbourne, Victoria. La reason why abbiamo chiesto Melbourne è perché è il centro dell'Australia in termini di business. La scuola ha lavorato durante 1.5 anni. I principi prodotti che stiamo concentrando in Australia sono ProdatoEat, ProFoil e, basicamente, il sistema di waterproofing e di flore heating. Questo è qualcosa di nuovo per l'Australia, come mercato. Questo è qualcosa che ci stiamo contando. Ovviamente, ci sono possibilità per la scuola e altri prodotti della scuola, ma il principale è di dare una nuova tecnologia in Australia, che è probabilmente 30 anni dopo, in compare con l'Europa. E questo è qualcosa che, per loro, è completamente nuovo. Abbiamo già ottenuto la certificazione, la certificazione del Codemart per l'Australia e la New Zealand. e, basicamente, il brand in Melbourne è responsabile per l'Asia e l'Australia. La stagione è really un'ottima protetta di flore di flore di flore. Progresso è successo. Per 2017 è una fornita quali ci sono altre modi. Ferti support per flore di flore di flore di flore di flore di flore di flore, con la flore di flore. E grazie ho anche metanello, per capire per il balcone o per laلة. Quando è unussi, potresti rispondono, in nostra compagnia, grazie. La panela è in diversi grossi. La panela può fare con la panela e come sempre con PROGRESS abbiamo la passione schiena per la panela. Salam Alekoum, Rahmatullah Barakatuhu, PROGRESS PROFAIS, CERICA ITALI, ci sono molto felici per l'exibizione di Sanabardo, almeno il sabbatasera per la Cersaia, per la Bologna. PROGRESS PROFAIS, CERICA, MAZNA, GARIB, BUNDUKIA, 16 kg, TAKRIBAN. E' un sacco, MADE IN ITALI, AWAI SEI, un sacco di GIDAR, FILE AMAM, FILE ARD, FILE DARAGE. A DASANA PROGRESS PROFAIS, E' un sacco di ProShower, ProShower System, E' un sacco di sacco, DESIGN, STRIP, GRILL, SQUARE, TILE. E' un sacco di sacco, TALATIN, SABAYIN, TAMANIN, TISSAYIN, MIA, 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 CHERIN, SENTIN. PROSHOWER, FILE AMAM, TALATASHAR, ALF, SAMF, CERICA ENDO. ZEI ANNA CALAMTO, CULLO MADE IN ITALI, PROGRESS PROFAIS, CERICA MUASSABA. PRO SUPPORT, IN 2017, PRO PROPOSING, A FEW NEW IMPROVEMENTS, WE HAVE NOW, A TWO MILLIMETER SPACING, A FEW MILLIMETER SPACING, AVAILABLE, THE TILTED HEADS, AND BOTH, THE STATIONARY HEADS, HAVE BEEN REDESIGNED, TO, TO IMPROVE THE MECHANICAL PERFORMANCE. THE PRODUCT HAS A COUPLE OF NEW ADDITIONS TO THE TRIMS, SO YOU END UP NOW, WITH A FLUSH FINISH ON THE TRIMS, AND A FLUSH WHERE YOU HAVE BISICALLY, NO VISIBLE METAL TRIMS, OR YOU HAVE A VISIBLE METAL TRIMS. WE HAVE A LOT OF GOOD FEEDBACK ON THE PRODUCT, AND WE'RE LOOKING TO EXPAND MORE ON OUR SUCCESS. PROFOIL PANEL IS THE NEW PRO, ANOTHER NEW PRODUCT FOR THESE, IS THE 2017 CHERSAI, PROFOIL IS AVAILABLE FROM 1 1.25 INCH TICKNESS, ALL THE WAY TO 2 INCH TICKNESS, SO IT CAN BE, SOMETHING USED AS A THERMAL BARRIER, FOR RADIANT FLOOR HEATING APPLICATION, WHERE A 1.25 INCH IS MORE THAN ENOUGH. IT'S A STAMP TYPE OF PRODUCT, CLOSE CELLS, YOU HAVE A WATERPROOF, APPLIED, WATERPROOF FIBERGLASS, APPLIED ON BOTH SIDES, SO IT'S STRUCTURALLY VERY RIDGID, ALLOWS YOU TO SUPPORT WEIGHT, WHEN YOU GO TO SIZES LIKE A 2 INCH, YOU END UP HAVING SOMETHING THAT'S VERY SOLID, IT CAN BE BUILT IN DIFFERENT SHAPES. CONTINUAMO CONTINUAMO NELLA FORMAZIONE E NEGLI INVESTIMENTI VERSO NUOVE TECHNOLOGIE, NUOVI MACCHINARI, NUOVI STABILIMENTI E LE NOSTRE FILIALI CRESCONO PORTANDO IL MADE IN ITALI, GRAZI AL CONTRIBUTO DI TUTTI I NOSTRI COLLABORATORI, GARANTENDO IL MASSIMO SERVIZIO POSSIBILE. . .